Salve a tutti, io sono Enzo Tanto e rappresento il gruppo 4R per S. Il nostro obiettivo è quello di sottrarre da un ciclo dei rifiuti dei materiali importantissimi che possono essere riempiegati nel settore dell'edilizia. Qui accanto abbiamo il laureando in ingegneria edile Marco Riccioli, il laureando in economia e gestione delle imprese Conti Orlando Santo. Da questa parte invece abbiamo la nostra dottoranda ricercatrice in urbanistica Valentina Palermo. Il nostro obiettivo è quello di riqualificare alcuni materiali che usualmente vengono gettati in discarica e che la popolazione paga per essere portata lì effettivamente. E quindi cerchiamo attraverso le nostre competenze di non eliminarle perché è un peccato.